. Pronto? Avrò lo che si ha trascinato un momento in atto. C'è no? A roba? Volevi vorrei un momento una cosa. Buonasera. Oh Bartolè. Oh. Ma che succede qua dentro? Nessuno non accorge mai niente a casa. Hai mai fatto caso Bartolè? Buongiorno Salvatore. Lo sai che qui sono già fatto a parlare? Mi raccomando. Quando furlò che tras... Che succede? Tu ci hai chiuso la porta a rete di spalla. Ah eh. Io ci hai chiuso la porta a rete di spalla. E noi a cosa avevamo fatto? Se mi ci salvo la vola? Come ci facciamo faccio e faccio? Sono tante a presto! Chi ha risposto a telefono? Io o tu? Chi ha risposto a telefono? Io o tu? Chi ha toccato stasera? Ehi Bartolè. Perché non si è formata che la macchina mi ha visto stamattina? Ma non stiva dormendo? Ascetemi di te palla! Facetemi un quarto adrives! Sono pazzo! Aspetta la camera! Aspetta la tua segnale. attività! Questa è la quale attività! Come ci ricordiamo! Grazie a tutti